spiegatevi voi dunque in prosa o di in versetti perché il cielo è uno solo la terra è tutta pezzetti il tempo è scaduto dico tiktok ci siamo rotte ecco il nostro post se tocchi scuola mondo non altro da fare arriva al dissing non puoi scappare chiedo dei buoni spesa mi pare normale ma poi chi ti risponde è la municipale gliela ha chiesto il comune democrazia si sa ormai sospesa siamo in pandemia esco di casa dalla quarantena vengo in caserma ma mi fate pena il mio reato volere aiutare chi per voi feccia da marginalizzare telefonate incontri privati dovremmo pentirci come i dannati di prender parola vicine agli esclusi mentre voi gli occhi tenete sempre chiusi basta sappiamo che non siete ottusi poveri e rom per voi sono intrusi cerchiamo giustizia ecco le intimidazioni vogliamo il mandante nomi e dimissioni nomi e dimissioni nomi nomi e dimissioni non siete ottusi poveri e romanzi Grazie a tutti.